Berlusconi telefona ad un convegno in Calabria, ma stavolta ad ascoltarlo non c'è quasi nessuno. Francesco Accardo. C'è la luce, a tuo volo. Ma tu stai parlando con Berlusconi proprio, ma fammi capire. Pronto? Bene, volevo portarvi un saluto di tutto il governo. Silvio Berlusconi telefona quando la sala di Campora San Giovanni, provincia di Cosenza, si è già svuotata. La fondazione John Mott, benefattore italo-americano, nato Giovanni Motta, fondazione vicina ai repubblicani di Nucara, aveva consegnato nel pomeriggio alcune borse di studio, problemi tecnici, telefonata da Palazzo Chigi rinviata, la gente se ne va. Alla fine restano solo i tecnici, Nucara e i vertici della fondazione. Io ti ringrazio e adesso ti passo sia Peter Caruso, che è sanitario, e poi il presidente Mirabelli, che come ti ho detto per telefono c'è uno dei più grossi studi legali d'America, con sede a Washington Party Box. Presidente Berlusconi, grazie per tutti. Insomma, mentre il governo è appeso a Pontida e alla verifica parlamentare, mentre il PDL lancia le primarie, ma non per la leadership, mentre Cicchitto annuncia o si va avanti o c'è solo il voto, Berlusconi termina la sua telefonata ringraziando tutti. Ancora grazie, viva gli Stati Uniti d'America, che anche gli italiani, i figli e i nipoti di italiani hanno contribuito a rendere grandi, e naturalmente viva la Calabria e viva l'Italia!